e salve a tutti sono b64 e oggi vorrei dire una cosa beh ho deciso una cosa molto importante ho creato un nuovo canale che si chiama b64 indie verdure farò sul vecchio canale che si chiamano b64 gamer farò i giochi sul telefono e sul canale nuovo creato farò i giochi su playstation 4 sono su playstation 4 giochi nuovissimi per playstation 4 se volete farò giochi pure no è meglio se faccio i giochi sulla playstation 4 e sul telefono farò giochi giochi sul telefono giochi sul computer però sul vecchio canale i giochi sul computer non sul nuovo i nuovi farò solo il playstation 4 quindi ragazzi era questo che volevo dire quindi se avete piaciuto lasciate un commento o mi piace e ce lo sto un pizzizzato fatto ciao ragazzi e al prossimo canale